Che nome è strano, transmaniaco? Cosa significa? Dal greco trans, attraversamento, è mania, passione, emozione estrema. Noi siamo per la costruzione di situazioni ambientali e umane che si basino sugli sbalzi d'umore collettivi, sulla trasformazione improvvisa di un umore in un altro, di un'emozione in un altro, di una sensazione in un'altra. Siamo per l'attraversamento di queste situazioni e quindi siamo transmaniaci, in questo senso, e situazionauti, cioè nauti, navighiamo nelle situazioni, in queste situazioni che veniamo a determinare. Ma quanti siete? Parecchi. Chi sono per te i transmaniaci? No, i transmaniaci non esistono come non esistevano i situazionisti. Esistono situazioni, eventi, i transmaniaci, ma i transmaniaci non esistono.